Gettone telefonico Questo tipo di gettone telefonico fu cognato nel 1959, fu usato fino al 31 dicembre del 2001. Il valore del gettone era all'inizio di 45 lire che corrispondevano all'importo di tre scatti telefonici, poi dagli anni 70 il valore era di 50 lire, dal 1980 il valore era di 100 lire e dal 1984 il valore era di 200 lire. Qui notate 7809, 78 sta per l'anno 1978 e 09 il mese di settembre. In questo piccolo scudetto c'è la sigla ESM che vuol dire Emilio Senesi Medaglie. Era una ditta di Milano che produceva gettoni e medaglie. Il gettone è in rame. Grazie. 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 Grazie.